Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui su Coinbase Coinbase praticamente è un exchange dove si possono acquistare le criptovalute ma c'è un'altra funzionabilità che nessun altro exchange ha ad esempio questa qui, apprendi e guadagni ma prima di arrivare a quel punto vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori video del genere Allora, qui praticamente c'è il saldo del nostro portafoglio Fate conto che questi soldi io non ho messo, non ho speso nemmeno un centesimo perché sono stati tutti regalati per quanto riguarda il lavoro, il servizio che c'è di Coinbase che ora arriveremo al dunque Comunque nel frattempo sono arrivato a 24 euro Comunque scendendo da qui Praticamente qui puoi ottenere 5 dollari in criptovalute gratuitamente impostando un acquisto ricorrente di almeno 50 dollari e ottieni 5 dollari dopo il tuo secondo acquisto Quindi capite che qui ci sono moltissime offerte Qui c'è la lista di controllo dove puoi vedere tutte le cripto che cosa fanno Ad esempio ora Bitcoin è valutato 42.000 euro E poi qui ovviamente se vi volete informare per quanto riguarda queste altre cripto Non ce ne sono anche molte più basse Appunto sì, a voglia, a voglia Ok abbiamo visto questo Poi c'è l'effettuare transazioni che sarebbe questo ovviamente Puoi acquistare tu direttamente le criptovalute Le puoi vendere Quindi praticamente io tutto questo è il mio portafoglio Praticamente non ho comprato niente Premetto Le puoi vendere e le puoi anche convertire Ad esempio Rally lo puoi convertire tranquillamente in Bitcoin Quindi capite bene che è un ottimo ottimo servizio Questo qui che ci sta offrendo Coinbase Andiamo avanti Qui nel frattempo sempre il portafoglio Scendendo sotto però Eccolo qui Siamo già arrivati al punto Che è quello di guadagnare 3 dollari di Anker Non so che cripto sia Ma comunque praticamente dobbiamo andare a rispondere a queste 3 domande E ci regaleranno 3 dollari Quindi iniziamo subito Allora anche una piattaforma multi blockchain Ok qui nel frattempo sta parlando Allora quali operazioni non consente di effettuare la piattaforma E qui io non lo so devo vedere il video che ci stava prima ma non lo so Ma comunque potete anche No questa non è corretta Potete provare tutte le risposte Che intanto alla fine il vostro dollaro è qui Quindi capite che anche questo è un altro ottimo metodo di guadagno Andiamo avanti alla seconda domanda Quale operazione è possibile effettuare con i token Qui non saprei Ah ok qui ho indovinato a prima botta Bene fatto sta Andrete a finire le domande Eccolo qui Abbiamo ricevuto 3 dollari Ora praticamente dove il portafoglio E ancora si deve aggiornare Eccolo qui Prima avevo 24 euro Eccolo qua Ora nel giro di Manco 3 secondi Sono aumentati di 3 dollari Comunque ci sono anche altre domande Quindi praticamente andrete a guadagnare Sempre sempre Quindi arriveranno ogni volta Se non sbaglio ogni settimana Ci saranno nuove domande Poi esiste anche un altro metodo di guadagno Che per quanto riguarda Eccolo qui Invitando i tuoi amici Acquista o vende un importo in criptovaluta Pari a 100 dollari Riceverete entrambi i bitcoin gratuiti Quindi capite che C'è un win to win Praticamente Vi regaleranno anche quei 10 bitcoin Ed è un'ottima cosa Che non ho mai visto fare In altri exchange Delle criptovalute Qui ci sono le notizie Ovviamente in inglese Inerenti al mondo Delle cripto Quindi praticamente Questo qui E' un exchange Completo Poi se volete Anche prelevare Non ci sono problemi Io non ho collegato Il mio La mia paypal Puoi fare Invia E ricevi E praticamente Riceverete tutto Nel vostro conto paypal Quindi praticamente Non ci sono problemi Di alcun tipo Riguardo coinbase Ok ragazzi Per questo video E' tutto Vi invito A iscrivervi al canale Di attivare La campanellina Delle notifiche E noi Ci rivediamo Domani Con un prossimo video Ciao